Era la banda delle case di riposo, 18 colpi negli ultimi mesi tra la provincia di Pavia e quelle di Alessandria e Monza, ma i ladri spesso svaliggiavano anche negozi e centri commerciali. A fermarli ci hanno pensato i carabinieri di Stradella, che hanno arrestato cinque di loro e rintracciato il sesto in Romania. I malviventi, di origine romena ed albanese, ma con loro c'era anche un italiano, abitavano in provincia di Pavia e avevano colpito più volte a Campospinoso, Garlasco, Retorbido, Dorno e Rivanazzano. In alcuni casi tornavano nella stessa RSA anche tre volte in una settimana e portavano via, oltre al denaro contenuto negli uffici, anche cibo e bevande. Un'attività di indagine abbastanza complessa, proprio per la particolarità degli obiettivi colpiti, appunto parliamo di numerose case di riposo che in quel periodo, in un breve lasto di tempo, circa tre mesi, sono state colpite e scardinate da questa banda criminali di soggetti prevalentemente albanesi e rumeni, tra i quali anche un italiano. Un'operazione che ha permesso di bloccare queste azioni abbastanza deprecabili. Il bottino variava da colpo a colpo, da poche centinaia, fino a diverse migliaia di euro. Quattro dei cinque arrestati, di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Da alcuni mesi si erano trasferiti in altre province italiane, perché consapevoli di essere nel mirino degli investigatori. Il blitz che ha portato al loro arresto nasce infatti dall'operazione Vampiri, che aveva sgominato altre due bande di ladri, che operavano in provincia di Pavia. Nasce da una precedente attività investigativa, quella denominata Vampiri, che già l'anno scorso aveva permesso di smantellare due organizzazioni criminali che erano dedite ai furti in abitazioni. Un'attività che completa in qualche modo quella di prima e speriamo possa bloccare definitivamente questa tipologia di reati che destra particolare all'arme sociale nel tessuto territoriale.